Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maulo941 e oggi siamo tornati alla guida della Maulo Racing signori miei Allora, prima di partire col video e di lanciarci nel primo gran primo della stagione, ovvero in Australia Che è successo? Ah ok, stanno assistendo il motore, meno male E vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maulo941 sia su Instagram che su Facebook, il link è in descrizione Se volete supportare il canale con delle donazioni, la potete fare tramite Paypal, grazie al link è in descrizione Detto questo, quindi noi partiamo con il video Ok ragazzoli, siamo nell'albero degli aggiornamenti Abbiamo 1120 punti, che cosa andiamo a migliorare? Questo cos'è? Sistema di accensione Non penso che mi serve come dimensioni turbo No, andiamo sul telaio, miglioriamo un attimino il telaio Cosa possiamo migliorare? Potenziamento batteria, questo ce l'abbiamo Livello struttura richiesto 1 Lo possiamo fare? No Questo non possiamo fare, sono tanti punti interrogativi Tanti punti interrogativi anche qui, non è vero Aspetta, questo lo possiamo fare? Questo lo possiamo fare? Sì, sviluppo normale Cos'è? Flap principale, ala anteriore Vai, sviluppa Sviluppa normale, sviluppa miglioria Lo riceveremo il 26 marzo Ok, quindi questo lo stiamo a fare Abbiamo ancora 590 punti Questo Questo è installato Questo vale 500 Cos'è? Resistenza a cambio Bello, certo, certo Sviluppa, sviluppa Sviluppa miglioria Ok, abbiamo sviluppato qualcosa raga Che speriamo che la nostra macchina possa migliorare già in partenza Detto questo abbiamo tutte le varie componenti Questi sono gli sponsor Tutti i vari componenti Contratti Va bene Queste sono tutte cose che vedremo più là Soldi e cos'è? Mamma mia che cacciara raga Non ci capisco Non ci capiremo niente Va bene Ma non preoccupiamoci Andiamo avanti Andiamo al Gran Premio Raga, dobbiamo cogliere Quagliare Quagliare Siamo al Gran Premio Gran Premio Da Australia Attività Messa Attività Attività scuderia Non ci sono attività Perfetto Casella di posta C'è qualcuno Profumo di autonoma Niente Attività Zio E attività Che cosa vuoi da me? Torna la panoramica Andiamo al Gran Premio Raga Non perdiamoci in chiacchiere Raga Allora Spermi tutti Mentre stava caricando Noi vediamo un attimo Di sistemare qui Le cose Per questa gara Poi le sistemerò meglio dopo Allora 65 di difficoltà Distanza gara 5G Di formazione no Prove libere complete Questo non possiamo modificarlo Preferenze Allora Aspettate un attimo Impostazione del gameplay Aiuti Bravura al volante Direttante Frenata assistita Media Freni anti blocco Controllo trazione completo Trattore dinamica completo No Solo curve Tipo di trattore dinamica 3D Cambio automatico Aiuto ai box Si Aiuto rilascio ai box Si Aiuto RS No DRS No Modalità carburante Si Va bene Impostazione del gameplay Livello difficoltà ok Flashback no Quindi raga Se sbattiamo Sbattiamo Regola del parco chiuso Si Danno veicolo ridotto No Completo Velocità Severità taglio curva Normale La gara inizia assistita No Gara inizia assistita No Manuale Voglio partire io Perfetto Ok abbiamo sistemato Le varie situazioni Raga Chiudi impostazioni E andiamo col gran premio Ok raga Siamo dentro il box Che carino il nostro box Guarda il meccanico Con la tuta gialla Che simpatico Ragazzoli Ma qua ci sono soldi Porca miseria Ce li abbiamo i soldi Allora Allora Noi abbiamo prove libere 1 Prove libere 2 Prove libere 3 Che mi devo andare a fare Signori miei Poi abbiamo le qualifiche E la gara Quindi io direi Io direi Off camera Mi faccio le prove Tutte le prove libere Così non vi Faccio perdere questo tempo E ci vediamo direttamente Per le qualifiche Raga La gara sarà sotto la pioggia Ottimo Che grande inizio Anche 4 risate assieme E il giro è andato proprio Di marmellata Però va bene Allora io l'unica cosa Voglio fare E andare in aiuti E levare la frena Da assistita Raga Se no Che senso ha Non c'è molto gusto E poi va bene così Confermo cambiamenti Andiamo alle qualifiche Raga Esordio assoluto Della Maullo Racing Signori miei Allora Durata 23 giri Cosa Durata 23 giri Eh si Vai alla pista Non Oh oh Ci siamo già Raga Ci siamo già Ci siamo già Dai 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 Ho il controllo Ho il controllo Della maullo Racing Raga Ci siamo Ci siamo Ci siamo Leggermente lunghi Leggermente lunghi Aia aia Tienila dentro Ok Bottas è primo Mamma mia Ce la stiamo facendo Tutta Tutta Prato Prato Raga Calma 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 Raga Io non gioco Ho un gioco di Formula 1 Da non so Quanti anni Frenala Abbiamo dei freni Che fanno palesemente Schifo Raga E anche una stabilità Che è terribilmente Terribile Però ce la possiamo fare Siamo 22esimi Da quello che vedo Da quello che vedo Siamo 22esimi E la macchina Non va per niente Come dovrebbe andare A tagliato Avvertimento Taglio curva muro Bello così Ottimo Mamma mia Raga Mamma mia Che partiamo male Replay Ritira Di la sessione Raga Voi tirate La sessione Sì Noi andremo avanti Così Andremo avanti Così Esordio col botto Per Papa Maullo E per la Maullo Racing Si cale il casco Maullo Il nostro Papa Maullo Bello Bello Proprio Un inizio col botto Ecco Abbiamo già il titolo Del primo Che è un premio Australiano Raga Inizio col botto Bello 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 Vediamo Aspettate Che ha fatto Il nostro compagno Giapponese Che ha fatto Raga Diciannovesimo Con uno 27 e tre Ok Ok Sei riuscito A qualificare Davanti Le due Williams Se ne abbiamo Fatto proprio schifo Va bene Ok In gara Ci rifacciamo Raga In gara Ci rifacciamo In gara Ci rifacciamo Raga Siamo pronti Siamo alla gara Cinque giri Da pioggia Vediamo cosa succede Già siamo andati a muro Col sole Raga Siamo già andati a muro Con il sole Io ho paura Di vedere Cosa può succedere Con la pioggia Io forse però Raga So perfettamente Che non è giusto Mamma mia Diluvio universale Raga Diluvio universale Bandiere Tutto quello Che volete Perfetto Grande inizio Di stagione Inizio bagnato Inizio fortunato Iniziamo la gara Iniziamo la gara Il nostro Mamma mia Raga Abbassa la frizione Tieni premuto I Ok Ok Ho mollato la frizione Ci siamo raga Siamo partiti Siamo partiti Esordio di nostra Raga Non vedo nulla Raga Non vedo nulla Aiuto Mamma mia Raga Mi sa che questo Cambiamo durerà Molto meno Della prospettiva Che ci siamo Ai 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 Dei 5 giri Però dai dai Ci siamo Ci siamo Ci siamo Dobbiamo tenere Dobbiamo tenere Dobbiamo tenere Avvertimento Ma sei lui che mi ha spinto fuori Raga Non ci vedo niente Non ci vedo niente Giovinanza e Gasliff Qua dovrebbe esserci la frenata Raga Infatti Frena 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 Buttati all'interno Frena frena Ai 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 Abbiamo perso l'alettone Abbiamo perso l'alettone Ma non è successo niente Non è successo niente Raga Siamo tredicesimi Siamo tredicesimi Va bene Non abbiamo un pezzo D'alettone Però va bene Alex come fai a ripararla Devo rientrare box Per ripararla Zio Dai Non mi puoi Strollare così Stroll Io ti risupero di qua Grande Il nostro papamaullo Che combatte Qui dove siamo andati A muro prima Dai I giovinastici Ma perché mi stai dando Tutti questi avvertimenti Sono loro che mi vengono addosso Dai Kivat mi ha superato Magnus mi ha superato Ora ditemi che colpa mia Dai Raga Ma che cos'è Lato scontro No 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 Fermo Fermo Abbiamo perso una ruota No dai Mamma che esordio brutto Raga Mamma che esordio brutto Reperati Avvia sessione Ritirati dalla sessione Raga Dai ma non si fa così Non si fa così Ma non è giusto Raga Papa maullo Parte col botto Vero e proprio Raga Vero e proprio Mamma mia Mamma mia Primo ritiro Primo gran primo E primo ritiro Subito così Non è giusto Però dai Chi ha vinto Questa cara è durata pochissimo Esordio veramente brutto Per la maullo racing Ha vinto Bottas Sono contento per lui Noi abbiamo solamente Pensare ai nostri danni Primo Bottas Secondo Hamilton Terzo Vettel Ok Complimenti per il podio Bello 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 Un giorno ci saremmo anche noi Su quel podio raga Su quel gradino più alto Un giorno Quando imparerò a guidare Un giorno ci saremmo anche noi Però non è giusto raga Mi hanno spinto tutto il tempo fuori Era un auto sconto raga Non è colpa mia Non è colpa mia raga Mi hanno buttato fuori pesantemente E va bene E' andata così E' andata così Allora Io devo un attimino raga Aspettate Vediamo che ha fatto Il nostro Compagno di squadra Matt Su Suscita Matt è arrivato 21 Ha fatto una sosta addirittura Quindi seppure lui Si è andata a chiantare Va bene Mamma mia Che inizio brutto Per la Mauler Racing Raga Che inizio brutto Per la Mauler Racing Ma ci rifaremo Ci rifaremo Raga Ci rifaremo Ci rifaremo Non so neanche quanto Avevamo messo Come il secondo sponsor Oh Salve Non è stata una gara pulita Ti pare Oggi ero Una calamita Per idioti Nessuno di noi Vuole rendersi Questo Non sono certo Tutto di cose Che sia successo Oggi Essere onesto La risposta Ha dato Ok Come pensi Che abbia Influito il clima Sul risultato di oggi Ha cambiato la strategia Certamente Non ha Affacciato il nostro morale Non ha affacciato Il nostro morale Dai e così Perché credi Che il tuo compagno Sia stato più veloce Di te oggi Perché mi sono andato a chiantare Dovevo guardare Le riprese Non ho idea di come Ha condotto una gara Perfetta Mentre io ho fatto Qualche errore È vero Ebbene Bisogna essere onesti Bisogna essere onesti Che ci ridi Che mi sono ritirato Questa ci ride Cioè io Ho portato Lo scuderio In formula 1 Ho esordito In formula 1 Mi sono ritirato E questa ride Va bene Va bene Attenzione Fama della scuderia L'incremento Fata combinata A 12% La nostra fama È a 1% ancora È a livello 1 Matt sta ridendo Il nostro giappone Mi date un soprannome Per il giapponese Raga Spese danni Bella così Pagamento tasse Ok Totale Abbiamo preso Qualche soldino Meglio qualche soldino Che un calcio Nel deretano Andiamo avanti Va bene Va bene ragazzoli Che dirvi Vediamo un attimino Come si mettono Qua le cose In scuderia Così cerchiamo Di capire assieme Questo gioco Perché è molto Particolare Molto difficile Raga Pensavo fosse un pochetto Più facile Invece non è facile Proprio per nulla Vediamo 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 Ok Noi siamo Noi siamo al 16 marzo Il 19 Già c'è il gran primo Del Bahrain Ottimo Quindi non possiamo Fare assolutamente Niente Giusto No Aspettate Autoriempimento Delle attività Fai quello che vuoi Rimove attività Questo così Abbiamo le attività Da fare Strutture Niente Qui non possiamo Fare niente Perché non abbiamo Minimamente soldi Per fare niente Ricerca e sviluppo Abbiamo qualche punto Da spendere Sì abbiamo qualche punto Da spendere Raga Abbiamo qualche punto Da spendere Dove lo possiamo Spendere questo punto 500 700 Questo sistema Di accensione Minor potenza Al motore No E invece di qua Cosa c'è Dimensioni Turbo Compressore No Che possiamo fare Questo non ho capito Perché non ce li fanno fare Potenzialmente sconosciuto Niente Questi non ce li fanno fare Raga Vediamo di qua Invece Resistenza Questo già ce l'abbiamo Manutenzione generale Installato Installato Consegna lunedì Manutenzione generale Questi possiamo farli No Va bene Ah perché già stiamo lavorando lì Va bene Lasciamo tutto così Va bene ragazzoli Allora detto questo Io mi fermo Qui Avanziamo fino al Gran primo del Bahrain Programma building Perfetto Perfetto Siamo al Gran primo del Bahrain Detto questo ragazzo Io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo qui sul canale Sempre per un prossimo Contenuto Bella raga Ciao Ciao